Amici di Mubile, sta per iniziare lo spettacolo. Mi raccomando, non disturbate le persone che sono vicine. Per favore! Spettacolo! La cosa importante è che spegnete il telefonino. Ma chi è questo telefonino? Di chi è questo telefonino? Di chi è? Non si può! Pronto? Lo spettacolo di Biagio Izzo? Sì. È il 9 marzo, a Chieti. Io ci sarò. Possiamo venire pure noi? Non è possibile, non disturbate, stiamo guardando lo spettacolo. Arrivi questo biagio. Ahahahahah! Ahahahahah! Sì